Calendario venatorio sospeso in via cautelare fino all'8 settembre, quando vi sarà la discussione in merito. Il Tar dell'Aquila ha deciso di rimandare l'apertura della stagione di caccia a seguito del ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste. È interessante vedere come lo stesso Tar abbia evidenziato che la conservazione della fauna selvatica deve essere una priorità rispetto ad altri interessi più di parte. Le criticità presenti nel calendario venatorio della regione Abruzzo sono essenzialmente dovute ad alcune preaperture, in particolare quella alla tortora selvatica, che sia l'ISPRA che l'istituto che dà i pareri per i calendari venatorio nel nostro paese, ma anche il Ministero, avevano cercato di impedire con una moratoria. La tortora selvatica è una specie in forte declino e ha bisogno di azioni di conservazione e non di ulteriori prelievi venatori. Ma sono anche altre le aperture riferite ad altre specie ornitiche che la stessa ISPRA aveva consigliato di iniziare il 2 ottobre. Il Tar, dice quindi il WWF, sancisce un importante principio. L'interesse prevalente deve essere quello della tutela e della conservazione della fauna selvatica. L'associazione poi va all'attacco per quanto riguarda il Parco Nazionale di Abruzzo e Molise, dove una delibera di giunta regionale limita la caccia nelle aree contigue. Manca ancora una definizione dell'area contigua del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, che la regione in qualche modo dimentica di aver istituito. All'interno delle aree contigue la caccia deve essere permessa solo ai cacciatori residenti. Insomma, spiace constatare che anche quest'anno si debba decidere di una materia così delicata come quella della gestione venatoria nei tribunali e con i giudici, invece di preparare un discorso e un confronto più istituzionali e più su dati scientifici.